Per definire le funzioni goniometriche seno, coseno e tangente, abbiamo visto negli scorsi video che ci servivano essenzialmente tre ingredienti principali, la circonferenza goniometrica, un angolo orientato alfa generico ed un punto P sulla circonferenza associato all'angolo. Con questi presupposti abbiamo chiamato coseno dell'angolo alfa il valore dell'ascissa del punto P, in questo modo, e abbiamo indicato seno di alfa il valore dell'ordinata del punto P, che è questa qui. Abbiamo poi definito la funzione tangente di un angolo alfa come il rapporto, quando esiste, tra il seno ed il coseno dello stesso angolo. In questo video, invece, il nostro obiettivo sarà quello di trovare, noto il valore che le tre funzioni goniometriche assumono in corrispondenza di un certo angolo alfa appartenente al primo quadrante, anche il valore che le stesse tre funzioni assumono quando vengono calcolate in corrispondenza di questi angoli, che chiamiamo associati. Le formule che riusciremo a ricavare, in questa prima parte riguardanti solo questi angoli associati, saranno strumenti potenti che ci permetteranno di ricordare soltanto il valore che queste tre funzioni assumono in corrispondenza di pochi angoli e di riuscire lo stesso a determinare i loro valori in un numero maggiore di angoli. Senza perdere troppo tempo, iniziamo a vedere cosa significa calcolare seno, coseno e tangente dell'angolo meno alfa. Per prima cosa, andiamo a rappresentare l'angolo meno alfa sulla circonferenza goniometrica. Per fare questo, prendiamo l'ampiezza di un alfa generico al primo quadrante e, anziché muoverci come facciamo di solito, in senso anti-orario, iniziamo a muoverci verso giù, utilizzando cioè il verso orario. Sulla circonferenza goniometrica, il punto P' associato all'angolo meno alfa è il simmetrico di P rispetto all'asse orizzontale. Per capire chi sono coseno e seno dell'angolo meno alfa, ci basta conoscere rispettivamente l'ascissa e l'ordinata del punto P'. Osserviamo però che P' ha esattamente la stessa ascissa del punto P. Tale ascissa, d'altra parte, non è altro che, per definizione, il coseno dell'angolo alfa. Diversa è invece la situazione del seno di meno alfa. L'ordinata del punto P' infatti, non è la stessa di quella del punto P, anzi, precisamente, è la stessa ma cambiata di segno. Per questi motivi, in base a questa definizione, possiamo concludere che l'ordinata del punto P', cioè il seno di meno alfa, è uguale a meno il seno dell'angolo alfa. Determinare, infine, il valore della tangente di meno alfa è cosa alquanto semplice. Basta ricordare che, per definizione, possiamo scrivere la tangente di meno alfa come il rapporto tra seno e coseno calcolati nello stesso angolo. Utilizzando le relazioni che abbiamo trovato prima, è immediato rendersi conto che la tangente di meno alfa vale meno la tangente di alfa. Usare questo specchietto è utile in esercizi di questo tipo, in cui si vuole determinare il valore di seno, coseno e tangente di un angolo di meno pi greco sesti o meno trenta gradi. Ricordato, infatti, quanto valgono le tre funzioni in corrispondenza dell'angolo, per così dire, principale di pi greco sesti, è facile, applicando queste relazioni, convincersi che il seno di meno pi greco sesti è meno un mezzo, che il coseno di meno pi greco sesti è radice di 3 su 2, è che la tangente vale meno radice di 3 su 3. Prima di passare avanti, possiamo osservare che considerare l'angolo meno alfa o due pi greco meno alfa è esattamente la stessa cosa. Se questo è l'angolo alfa che consideriamo, infatti, prendere un angolo di ampiezza 2pi greco meno alfa vuol dire prendere 2pi greco, cioè un giro completo di circonferenza, e togliere a 2pi greco l'ampiezza di alfa. In questo modo. Esattamente come nel caso di prima, dunque, se xp e yp sono le coordinate del punto P, il punto P' ha ancora per coordinate xp e meno yp e quindi gli stessi valori di seno, coseno e tangente dell'angolo meno alfa. Consideriamo adesso un caso del tutto differente, quello dell'angolo associato pi greco meno alfa. Se l'angolo alfa è questo, prendere pi greco meno alfa vuol dire arrivare a pi greco e, visto il meno, tornare indietro di alfa, in questo modo. Il punto P' che individuiamo, stavolta, ha, come puoi vedere, la stessa ordinata di P ma differente ascissa. Più precisamente, la xp' è opposta alla xp, sicché le coordinate del punto P' sono meno xp e yp. Sappiamo, però, che la xp' non è altro che il coseno dell'angolo pi greco meno alfa e che la yp' è il seno dello stesso angolo associato in verde. In base a queste formule, d'altro canto, possiamo esprimere ascissa ed ordinata del punto P in questo modo. In definitiva, quindi, sappiamo quanto valgono seno e coseno dell'angolo associato pi greco meno alfa. Come sempre, per conoscere il valore che la tangente di quest'angolo assume in funzione del valore della tangente dell'angolo alfa in giallo, utilizziamo la definizione di tangente. Sostituendo, ricaviamo meno tangente di alfa. Vediamo un esempio di come sia possibile utilizzare questi risultati. Tenendo a mente i valori che le funzioni seno, coseno e tangente assumono in corrispondenza di questi angoli del primo quadrante, proviamo a determinare i valori di seno, coseno e tangente di quest'angolo. Quello che vogliamo fare è riscrivere questo angolo in modo da far riassumere la forma di uno degli angoli associati che abbiamo finora imparato a riconoscere. Per rendere questa procedura, cosiddetta di riduzione al primo quadrante, più agevole, ti suggerisco, almeno all'inizio e se non hai troppa confidenza con i radianti, di convertire l'angolo da radianti in gradi. In fondo, come abbiamo visto in questo video, fare la conversione vuol dire semplicemente moltiplicare la frazione per 180 gradi. Nel nostro esempio, tre quarti per 180 gradi fa 135 gradi. Abbiamo quindi un angolo che vale un po' meno di 180 gradi, cioè un angolo che è 180 gradi meno un angolo, da scegliere tra questi qui. Come è facile convincersi, 180 gradi meno 45 gradi è proprio uguale a 135 gradi, o, se preferisci, a pi greco meno pi greco quarti. Una volta riconosciuto che l'angolo associato tre quarti pi greco è della forma pi greco meno alfa, non ci resta che applicare queste formule e ricorrere a questa tabella per scrivere i tre risultati. Un'ultima situazione che consideriamo in questo video è quella dell'angolo associato pi greco più alfa. In questo ultimo caso, il punto pi primo associato ad un angolo che è appunto pi greco più alfa si trova nel terzo quadrante. Il punto pi primo, in particolare, ha coordinate opposte a quelle del punto pi. Analogamente ai casi precedenti del resto, la scissa e l'ordinata del punto pi primo non sono altro che rispettivamente il coseno ed il seno dell'angolo pi greco più alfa in verde. La xp e la yp, invece, sappiamo essere rispettivamente il coseno ed il seno dell'angolo in giallo, che però, in questi casi, vanno cambiati di segno, vista la presenza di questo segno meno. La tangente, invece, visto che nella frazione i due meno si compensano, rimane proprio uguale a quella dell'angolo alfa. Per finire, vediamo alcuni esempi di riepilogo. Partiamo dall'angolo cinque quarti pi greco. Con il solito meccanismo di conversione, abbiamo che quest'angolo vale 225 gradi, che è qualcosa in più di 180 gradi. Precisamente come ci facilita capire il fatto che il numero finisce per 5, l'angolo vale 180 gradi più 45 gradi, ovvero pi greco più pi greco quarti. L'angolo è quindi del tipo pi greco più alfa e le formule che utilizziamo, noto l'angolo al primo quadrante ed i relativi valori delle funzioni goniometriche, ci permettono di arrivare a questi risultati. Due terzi pi greco, invece, non è altro che 120 gradi, cioè 180 gradi meno 60 gradi, ovvero pi greco meno pi greco terzi. In questa situazione, allora, non ci resta che ricorrere a queste formule e al valore delle funzioni goniometriche in corrispondenza di un angolo al primo quadrante di 60 gradi o pi greco terzi. In questo modo. Infine, prendiamo un angolo di 11 sesti pi greco. Questo angolo possiamo convertirlo in gradi e, capendo che si ottiene come 360 gradi meno 30 gradi, scriverlo in questa forma, cioè come un angolo del tipo 2 pi greco meno alfa. Applicando perciò queste formule e guardando questa riga della tabella, siamo in grado di conoscere i valori di seno, coseno e tangente di un angolo di 330 gradi. Anche stavolta il tempo a nostra disposizione è terminato. Se questo contenuto ti è stato utile e vuoi sostenere il progetto, puoi condividere il video e lasciare like. Non dimenticare inoltre di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video che usciranno. Se ti va di contribuire a migliorare la qualità dei video futuri, puoi fare una donazione al link che trovi in descrizione. Per non perderti altre risorse, come i formulari che riassumono il contenuto dei video, seguimi sui profili Instagram e Facebook. Io sono Gianmarco e ti auguro buono studio!